Il popolo di Facebook mi dite queste delle scarse siamo qui all'autolavaggio Sassi mi faccio vedere i proprietari e i ragazzi del proprietario guardate 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 ho ho messo in opera guardate ho messo in opera guardate ho messo in opera guardate ho Villa Ricca la capilla Ricca venite dici qualcosa che è falsa dici qualcosa che è falsa che poi ha fatto un po' infanzi noi qua siamo a Villa Ricca Viata della Libertà 426 autolavaggio da Armando Sassi ok alla grande è il nostro grande amico Luigi Capasso che ci viene sempre a trovare alla grande alla grande grazie ragazzi va a ciappate a ciappate a ciappate a ciappate a ciappate mi aspetto ma chi sta a caricare subito stasì